50 chili un metro e mezzo di altezza e pelo grigio è amelia il cucciolo femmina di cammello della battriana nato il 25 marzo scorso al bioparco di roma questo è un cammello del deserto del gobbi un cammello domestico e pensate l'ultima nascita di cammello negli zoo avvenuto nel 1987 quindi per noi è una grande novità un grandissimo evento appena nata amelia era molto debole e non riusciva a prendere il latte dalla madre ad allattarla con un biberon ogni quattro ore per i primi giorni sono stati i guardiani del bioparco recuperate le forze amelia si è avvicinata la mamma e finalmente è iniziato l'allattamento e quindi è iniziato